Come stas? Zucca! Come stas? RPG nadal! RPG nadal! RPG nadal chlopci! K***a! Daj RPG C***a! Sì, sì, sì. Noi, 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 noi Scusiamo. Vamo nos saliamo saliamo. Voi. Dai. va bene i f***s 20 azzas i f***s qui 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 Sì, stagione, stagione, stagione. Hey, 50-50, we up? Got robber ready. Sì, stagione! Rosteci! c'è l'acqua Da dove? Ci sono più in più. Ci sono quasi per l'espirazione, Richard? Si. Ti sono stato raiato? Eh, ti sono stato anche per l'espirazione. Non, 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 non. bravo Ukraina bravo Ukraina bravo Ukraina a smertite da summa calmo per me ci o dir si sto il mio e stove stiti, qui tu, qui ti tu, qui tu, qui a qui, 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 qui e'vi qui, e'vi qui, non si... E'vi qui qui venirebbe un'altra... E'vi qui venirebbe un'altra... E'vi qui venirebbe un'altra...